Musica Benvenuti ragazzi, eccoci qua tornati in questo nuovo video come vedete siamo su Agar.io ripropongo questo video qua, questo giochino perchè comunque dai, cioè ci sta vedere un po' di persone strane, con nomi strani che girano qua dentro la mappa mettiamo come sempre il nome e siamo pronti a giocare ok, siamo in formato verde come inizio partita intanto qua abbiamo, vedete Barack Obama quello me lo posso già mangiare no, come facciano, ma dai, ma è più, è più porco giuda oh mamma Mario, ecco avevamo scampata, invece ci ha morto ci ha morto, ma cosa vuol dire? avanti, riproviamo formato viola oggi perchè mi va un po' a scatti porco cane dai, dove sono le palline che... oh madonna Agar Youtube, quanti sono? oh mamma brutta gente, brutta gente ragazzi allora, dobbiamo prima mangiare tutte queste belle palline così almeno cresciamo un po' allora, se non mi sbaglio come scor... oh madonna il belgio ah, ah aiuto la madonna, quanto è grosso quello? cazzo è? lecce vkulchi è terzo in classifica e grazie minca, chissà goran che lì che è primo pandev goran pandev via, via, via ottimo mm attenzione no porco giuda come cavolo fanno a fare non so 5.000 6.000 8.000 punti boh, robe del genere e diventare grossi quanto tutta la mappa che io porco giuda già se arrivo a a 200 punti è già tanto guarda questo quanto è grosso il cane qua mangia, mangia attenzione abbiamo Bieber Spook voglio vedere però goran quanto è grosso pandev ancora Bieber Spook voglio trovare goran dove sarà mai goran vediamo facciamoci tutta oh madonna oh madonna ragazzi dove sono? sono in mezzo a delle palle giganti meno male che recupero cioè che salvataggio no more wear mi mangia facciamoli in modalità notturna magari siamo più forti dai so già che non entrerò mai io dentro la classifica lì perché era veramente un bordello no qua siamo bloccati scappa c'è il cane che ci rincorre attenzione il Brasile Karim no guarda che Karim mi può mangiare madonna madonna scappa scappa ancora Bieber Spook mangia di tutti oh no ancora il cane è quello qui guardate goran si è rimpicciolito adesso però cavolo ha perso ha sbagliato qualcosa molto mare goran fuck Russia no il Brasile no il Brasile se si divide mi mangia se si divide mi mangia meno male che sia no goran eccolo qua goran ci vuole mangiare attenzione eh la madonna quanta gente quello si è fatto mangiare da solo quello lo posso andare a mangiare no 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 preso e vai che uno l'abbia mangiato no no via via scappa aiuto siamo chiusi troppa gente troppa gente via eccolo qua la madonna guarda quanto è grosso porco cane andiamo con l'ultima parete in versione notturna vediamo un po' se riusciamo a battere almeno il record dell'altra volta che era 200 se non mi sbaglio ma qua la vedo veramente ma veramente dura non ci sono neanche più pallini da mangiare qua che cavolo è se li sono mangiati tutti guarda questo quanto è grosso Mars Mars lo possiamo mangiare è buono il Mars no via 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 questo se si divide mo mi mangia mangia tutti sti pallini e diventa sempre più grosso che cavolo Mars vieni qua mangiato Mars ecco che siamo cresciuti e andiamo così oh madonna il team francese no eh intanto siamo già molto più lenti porco cane guarda che mo mi mangio il cane no flag mi mangia lui no questo cane mi mangia questo cane mi mangia scappa scappa oh madonna è arrivato un altro cane aiuto che cavolo è questo qua senza nome Obama in miniatura lì lo voglio andare a prendere seguiamo eccolo qua Obama in miniatura ragazzi il piccolo Obama vieni qua piccolo Obama è stato già mangiato però io a te posso mangiarti siiii spettacolo ragazzi abbiamo già sorpassato il record dell'altra volta siamo a 2 e qua guarda che mangio anche questo no bastardo siamo a 2.37 molto bene molto bene dai dai che me li devo mangiare guarda qua sono 3 bocconcini perfetti anzi 2 adesso non andare sui cosi veri perché sennò ti dividi questo qua ce lo dobbiamo mangiare pure senza nome no aiuto Obama Obama me lo mangio è più piccolo di me dai dai prendi Obama per favore no Bieber Spook aiuto quanti pallini qua però guardalo qua porco Giuda se n'è andato pezzo di cacca vieni qua vieni qua tutti e due vi mangio eccolo qua uno l'abbiamo preso via 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 aiuto ho troppa gente Obama Obama è mio dai dai oh no 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 c'è il W team aiuto mi sta mangiando posso mangiare il cane no ci ha mangiato porco Giuda però comunque 306 come scorre ragazzi quindi buono così abbiamo volto tutto il record dall'altra volta io vi ringrazio per la visione spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo video per una nuova partita ciao 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 ciao